Ciao a tutti, amici di Palluani Life, sono Modesti Dimitri, biker. Pratico questo sport da 15 anni e oggi cercherò di darvi alcuni suggerimenti tecnici per affrontare al meglio i percorsi di mountain bike. Ora affronteremo insieme un tipico percorso cross country partendo dal forte di Pastrengo. Nei tratti misti l'ideale è mantenere il baricentro leggermente arretrato rispetto alla seglia. Ragazzi, una cosa importante, per sganciare meglio il pedale ricordatevi sempre di effettuare una rotazione del piede verso l'esterno. Per effettuare al meglio questo passaggio estremo la posizione migliore è il fuorisella. Per effettuare un buon fuorisella è importante arretrare il più possibile il baricentro. Naturalmente tenere ben stretto il manubrio e controllare l'andatura frenando leggermente. Per affrontare al meglio i single track tipici del cross country è importante mantenere lo sguardo in avanti. Ragazzi, nella mountain bike due cose sono fondamentali. L'allenamento costante e l'alimentazione corretta e genuina. Scrivetemi su palluanilife.tv Ciao, a presto!